Ormai è chiaro, nel Partito Democratico di Avellino c'è un disegno contro il sindaco Galasso, manovre nemmeno più tanto oscure per delegittimare il primo cittadino e rendergli più tortuoso il cammino verso una candidatura alle prossime elezioni politiche. L'ultima conferma ieri sera nel corso della riunione del gruppo consigliare a Via Tagliamento, il partito presente con i suoi vertici provinciali non ha speso una parola in difesa del sindaco attaccato in maniera diretta dal consigliere comunale Francesco Todisco, che in un intervento sulla stampa aveva parlato di mani lerce che si allungano sulla città, gettando ombre sulla moralità dell'esecutivo comunale. Un atteggiamento inaccettabile, secondo Leonida Gabrielli, polemicamente assente al confronto di ieri. Gettafango sull'amministrazione tutto sommato, perché a quello che si fa riferimento in un passaggio alle società pubbliche e all'amministrazione in generale, devo ritenere che si colpisce chi gestisce il potere amministrativo in città, destinatario non può che essere il comune di Avellino. E di fronte a questo io, per la verità, non me la sono sentita di andare a questa riunione di ieri, perché c'è un chiarimento di fondo da fare. Siamo tra persone per bene, tra delinquenti o cos'altro. Se ci sono motivi oscuri, fatti antigiuridici, si è il dovere di denunciarli, facendo nome e cognome, perché la verità non fa mai male. Al vertice del PD, oltre a Gabrielli, non c'erano i quattro democratici e hanno pesato anche altre assenze di consiglieri e assessori come Melillo e Petitto. Ma il malessere sarebbe davvero diffuso. In questo caos il partito, invece di cercare l'unità e di schierarsi con il sindaco, che lo ricordiamo ha ottenuto la cifra record di consensi del 62%, ha lanciato l'ennesimo ultimatum ai dissidenti. Non è possibile che ogni giorno, a giorni alterni, a fase alterna, ogni occasione di eventi importanti, esca un articolo di una sensibilità che destabilizza quella potenziale unità che può essere raggiunta. E allora questo non mi mette nella condizione di poter dare un ulteriore mio contributo laddove poi va a discapito della mia onorabilità e della mia intelligenza. Grazie.